La proposizione, questa la dimostro, che automaticamente dimostra le proprietà della parte interna? La parte interna di E è uguale all'unione degli insiemi A tali che A appartiene ad E. Questa è la famiglia degli aperti contenuti. Io dico che la parte interna di E è l'unione di tutti gli aperti contenuti. Automaticamente questo mi dice che è un aperto ed è il più grande aperto contenuti. Sto dimostrando che la parte interna di E coincide con l'unione di tutti gli aperti contenuti e che è il più grande aperto contenuti. Come si fa la dimostrazione dell'uguaglianza tra due insiemi? Si prende un punto nell'insieme di sinistra e si dimostra che appartiene all'insieme di sinistra. Nella prima, diciamo, sia x appartenente alla parte interna di E. Quindi x è interna di E. Quindi esiste un'exino maggiore di 0 tale che x appartiene nella sfera vicino al centro x di raggio x che è il contenuto inizio. Questo è il mio insieme A. Questo implica che x appartiene all'unione degli A. Questo è un aperto della famiglia. Sfere aperte sono aperte. Se vi ricordate, abbiamo già visto. Quindi questo è un elemento della famiglia. Se x sta nella parte interna sicuramente appartiene a qui su. Viceversa, sia la famiglia x appartenente all'unione degli aperti contenuti in E. Questo vuol dire che esiste un aperto di un aperto contenuto in E, tale che x appartiene alla parte interna. Implica x se appartiene alla parte interna. Allora, un punto che sta nell'unione degli aperti contenuti in E, deve appartenere ad un aperto contenuti in E. Ma se appartiene ad un aperto è interno ad A. Ma siccome A è contenuti in E, è interno pure a D. Ma se è interno a D sta alla parte interna. Cioè, quindi, automaticamente se noi prendiamo un punto e la parte interna sta in quell'unione. Se noi prendiamo un punto e la parte interna sta in quell'unione. Quell'unione e la parte interna. Adesso... chi è la chiusura di E? Se vi ricordate? La chiusura di E... Quindi questa proposizione l'ho dimostrato. La definizione era che la chiusura di E era l'insieme degli x appartenenti a x, tali che per ogni ε maggiore di 0, la sfera di 100x e di raggio a x. Ma posso anche scrivere... insieme degli x. Allora, andiamo a vedere chi è il complementare della chiusura di E. Allora, innanzitutto posso dire che questi qui sono i punti non appartenenti ad E, perché la chiusura di E era ovvio che contenesse... dalla definizione, prendete un punto di E e poi andate a fare la sfera quella che contiene x e quindi non è. Allora, quindi sono il complementare... siccome questo contiene E, il complementare di E è il complementare di E. Ma non tutti vanno bene. Quali sono? Quelli tali che... esiste un ε maggiore di 0, tale che la sfera di centro x di raggio a x è tutta contenuta nel complementare di E. Scrivere x non appartenente ad E o scrivere x appartenente al complementare di E è la stessa cosa. quindi chi è? E' la parte a norma di definizione, questi chi sono? I punti interni del complementare. quindi questa chi è? E' la parte interna del complementare. Quindi il complementare della chiusura e quindi chi è la chiusura di E? E' complementare della parte interna del complementare. quindi ho dimostrato quell'altra relazione. E quindi la parte interna del complementare era il più grande aperto contenuto nel complementare. e quando passano i complementari, questo qui è il più piccolo. Questo qua è uguale all'intersezione di C appartenente a F, C dove F è la famiglia di C contenenti E, tali che C è chiusura. quindi come la parte interna era il più grande aperto contenuto in E, la chiusura è il più piccolo che il contenuto. Ora quest'ultima parte ci pensate bene a casa, diciamo se vi ingrippate adesso. vi mettete a casa per esempio. il resto l'abbiamo già dimostrato, la frontiera è un chiuso perché? perchè è una chiusa meno aperto. chiuso meno aperto. chiuso meno aperto. Adesso, piuttosto che cercare di trovare significati nei conti di filosofi, eccetera, questi sono esercizi. Andiamo a vedere tramite qualche esempio, dobbiamo vedere ancora qualche altra cosa. Allora, io ho queste operazioni di parte interna e di chiusura, le posso fare più di una volta. Allora, io parto da un insieme E, posso fare la parte interna e posso fare la chiusura. Questa contiene E, questa è contiene E. poi cosa posso fare? posso fare, questo si chiama la chiusura della parte interna. Cioè, si fa prima la parte interna e poi la chiusura. Cioè, si adopera prima l'operazione che sta più vicina all'insieme. Cioè, qua ci sta più vicino il pallino o il... Ah, scusate, la prima cosa che devo fare, lo posso fare qua, è la parte interna fatta a due volte. Chi è? La parte interna chi è? Il più grande aperto contenuto insieme. Quando l'ho fatto una volta, quella era già aperta. Quando la faccio la seconda volta, rimane la parte interna. Cioè, prima osservazione, fare due volte di seguito la stessa operazione è come fare una volta solo. Poi, se faccio la chiusura due volte, questo è come farlo? Una volta solo, perché è il più piccolo chiuso quando rendere insieme. Ma quando l'ho fatto una volta, era già chiuso. Quindi, quella la seconda volta è inutile. È chiaro? Quindi io potrei mettere, per esempio, se faccio un insieme con tre pallini, due cose, in altri due pallini, questo qui è... perché parti interne consecutive come se fosse una sola, due chiusure consecutive come se fosse una sola, una parte interna. Allora, quali sono le operazioni che posso fare con un insieme? Posso fare prima la chiusura oppure prima la parte interna. Poi, dopo che ho fatto la parte interna, per forza devo fare la chiusura, perché la parte interna la seconda volta non serve a niente. Poi, posso fare la parte interna, poi posso fare la chiusura della parte interna e poi posso andare avanti. Ecco, andare avanti non serve, cioè quando faccio E, parte interna e chiusura, parte interna e chiusura, è uguale a E, parte interna e chiusura, è uguale a E, questo se volete lo fate per esercizio e non lo sto a dimostrare. Quindi, prima osservazione, io posso fare soltanto alternativamente parte interna e chiusura, perché ogni volta che faccio due volte di seguito la stessa operazione è come se c'è una classe che me la fa fare una volta solo. Dopodiché, fare due volte di seguito parte interna e chiusura oppure chiusura parte interna e chiusura è come fare una volta solo. Quindi, ogni volta che trovate due volte di seguito la stessa sequenza, parte interna e chiusura, parte interna e chiusura, e accorciatevi, oppure chiusura parte interna e chiusura parte interna e accorciatevi. Alla fine, rimangono come potenzialmente diverse solo queste sette combinazioni qua. Dici, ma è possibile che queste sette siano tutte diverse? In generale, no. Per esempio, prendiamo, facciamo un esempio. in generale sì, nel senso che è possibile che siano tutte diverse, però non sempre. Cioè, ci stanno casi in cui non sono tutte diverse e casi in cui sono tutte diverse. Per esempio, se è uguale a 0,1, chi è la parte interna? 0,1. Chi è la chiusura? 0,1, giusto. Chi è la chiusura della parte interna? 0,1, giusto. 0,1, giusto. Chi è la parte interna? 0,1, giusto. 0,1, giusto. Gli ultimi due minuti che li faccio, perché saranno uguali di nuovo a 0,1, chiuso e 0,1, giusto. Quindi, su sette sono diversi solo tre. Adesso vi do un esempio invece di un insieme in cui sono diversi tutti e sei. Allora, l'insieme è fatto così. Potrei fare più esempi per fare diversi cinque, per fare diversi un po' di più, però vi do direttamente quello che è. Allora, E è fatto così. 0,1, unito 1,2, unito il punto 3, soltanto il punto 3, unito i razionali compresi tra 4 e 5. Allora, cominciamo a fare la parte interna. Chi viene? La parte interna, abbiamo. Vediamo un po'. C'avete tutti gli elementi per dire chi viene dalla parte interna. Quali sono i punti che non sono interni, che devo perdere? 3. 3 lo devo perdere, non alla interna. Tutti questi punti qua, sono solo i razionali. Vi ricordate, i razionali quando faccio la parte interna veniva il punto. Quelli sono i razionali tra 4 e 5 quando faccio la parte interna. Insieme sono staccati, bene staccati. Quindi quando vado a fare la parte interna, di questo non c'è nessun effetto, diciamo, un po' di interferenza con gli altri insieme. Quindi chi è la parte interna? La 0 a 1. La 0 a 1? La 1 a 2. La 1 a 2. La 1 a 2. Chi è la chiusura della parte interna? Quando vado a chiudere questo insieme che è successo? Da 0 a 2 compresi. Quindi, 1 lo devo aggiungere perché 1 è di aderenza. e una volta che ho aggiunto 1 si salda tutto qua. Tutto l'interno. Adesso se faccio la parte interna, la chiusura della parte interna, chi viene? 0 a 2. 0 a 2 perché l'1, una volta che ha saldato questo non è che lo faccio quando faccio parte interna, quindi non si perde più. Quindi è evidente che questi 4 insiemi sono tutti diversi. Adesso andiamo a vedere gli altri 3. Chi è la chiusura? Da 0 fino a 2 ci deve stare. Poi? Poi? Pure il 3 ci stava prima e ci deve stare pure il 2. Poi? Tutti i numeri da 4 a 5. Per quale motivo? Vi ricordate che il Q quando chiudeva veniva tutto qua? e poi sono i numeri relazionali da 4 a 5 e quando chiudevano tutto interno. Adesso faccio la parte interna della chiusura? Chi viene? Da 0 a 2 eh? 3? 3? L'ho aperto 3. Perché? 3? Non è interno. Unito? 4 e 5 aperto. Adesso quando faccio la chiusura della parte interna della chiusura? Cosa mi viene? 0 a 2. Unito. 4 e 5. È chiaro? Quindi qua ci sono combinati tutti gli effetti possibili e immaginabili che potete avere. Peggio di così non può andare. Adesso provate a fare di nuovo la parte interna di questa. Chi viene? Questo qua. Provate a fare la chiusura di questa. Chi viene? Questo qua. Cioè dopo che l'avete fatto 2 volte, la fate l'altra 2 volte è uguale. Quindi quello non lo dimostro ma se volete provate per successo. Cioè queste due uguaglianze qui. Queste sono sempre vere. Sempre vere. Non sono difficili da dimostrare. Però. Ve le lascio come facoltative. L'importante è che sappiate che questi sette insiemi possono arrivare ad essere diversi. ma non sono sempre diversi. In generale possono essere diversi ma in molti casi possono anche non essere diversi. Per esempio prendete R. Sono tutti e sette uguali. La parte interna è la chiusura R. La parte interna è la chiusura R. La parte interna è tutto quello che potete fare per esempio R. oppure prendete insieme potere anche se tutti quali insieme potete. Possono concidere tutti e sette, concidere solo alcuni. Oppure possono essere tutti e sette, come in questo caso, diverse. Con parte interna e chiusura, più di sette insiemi diversi non ce li potete fare. Quindi questo è il caso peggiore che potesse capitare. Se aggiungete anche la complementazione, ovviamente, gli insiemi che potete realizzare sono 14. Va bene? Quindi noi abbiamo visto che abbiamo visto? Intorno, aperto, chiusi, proprietà di queste famiglie di insiemi. gli intorni si riferivano a un punto, gli intorni di un punto di sconservi. Invece gli avetti chiusi e gli avetti chiusi in generale. Ok. Adesso però vogliamo introdurre un altro concetto, però per arrivare a questo concetto del nonno di spiare c'è il sforzo. Iniziamo. Azzalto. Abbiamo. Unissimo. Un'armi Allora, noi vogliamo arrivare dentro il concetto di zepe compatto, però perci arrivare, non so se ci arriviamo oggi, dobbiamo prima introdurre il concetto di successione a parlo di uno spaziometrico. Cos'è una successione di uno spaziometrico? Io ho il mio spaziometrico x di i, poi non è altro che un'applicazione x da n appartenenti a n, x di n che denotiamo con x con n, che apparteniamo a x. Una successione di numeri reali, ovvero valori in R, è una successione di elementi di uno spaziometrico x, cioè valori in x. Allora, definizione. Si dice che il limite di x con n è uguale a x appartenenti a x, se questo se per definizione, per ogni epsilon maggiore di zero esiste un indice di mi, tale che se n è maggiore o uguale a mi, allora x con n appartiene alla sfera di cento x. Allora, questa è una definizione data in generale, quando è che è una successione? Tra l'altro questo significa la distanza di x con n da x è minore di x. Un altro modo di scrivere questo perché la distanza di x con n da x è minore di x. Quindi cos'è una successione convergente in generale in uno spazio qualunque? Mentre prima era una successione che definitivamente era compresa da x meno y e x più y, in generale questa è definitivamente compresa nella sfera che era contenuta nella sfera di cento x e di raggio y. Chi era la sfera di cento x, nel caso caso x di uguale f con la distanza equidea, la sfera di cento x di raggio y era intervallo x meno y, x più y. Quindi vedete che anche in questo caso il limite di x con n fa sempre x. Normalmente lo chiamavamo L in R o l'abbiamo chiamato x perché il limite degli x con n siamo in x grande perché lo dobbiamo chiamare L. Normalmente si chiamano x. Però esattamente fa lo stesso ruolo per fare la L. Vedete qua, se ci mettete L invece di x, x con n è stata tra L meno E. Quindi come vedete questa definizione generale rispetta la definizione particolare che abbiamo dato nel caso della renta e della distanza equidea. Dire questo oppure scrivere x con n meno x, minore di E, se no oppure scrivere la distanza equidea x con n meno x è la stessa. Lo scrivo così, lo scrivo così, lo scrivo così, lo scrivo così. Poi un'altra cosa che dobbiamo osservare, osservazione, il limite di x con n vale x se e solo se il limite della distanza di x con n da x è uguale a 0. Allora dire questo o dire che definitivamente la distanza di x con n da x è uguale a x significa che la distanza di x con n da x tende a 0. Quindi dire che in uno spazio qualunque una successione di x con n è uguale a x o dire che la distanza di x con n da x tende a 0 è la stessa. Questa è la definizione, qua non c'è scritto def, questa è un'osservazione, questa segue dalla definizione e non la scrivo la dimostrazione perché è banale, ovvio. Però è chiaro qui? Chiaro? Ok. Che cosa potremmo fare con questa definizione altisonante, cioè nel caso generale? In realtà possiamo fare di meno. Più è generale la definizione e meno ci possiamo fare perché alcune proprietà di R le perdiamo. Per esempio, possiamo fare il teorema di unicità del limite? Sì. Perché se vi ricordate quello si faceva con le sperette. Anche qua si potrebbe fare la dimostrazione tale e qua, però usando la distanza del segno. Cioè dove sta scritto vi farò assolutamente la differenza e dove usare la distanza. Si può fare, trovare la permanenza del segno? No. Perché no? Perché R era ordinato. Che ne sai se x è ordinato? Per esempio, se sta in C, che senso ha dire che x è maggiore di 0? Oppure se sta nell'insieme delle città, che senso ha dire che Torino è maggiore di 0? Si può fare il teorema della somma sul limite della somma? No. Se sta in C, sì. Il limite della somma sarà la somma dei limiti. Perché anche C è un corpo, un campo. Se invece sta nell'insieme delle città con la distanza chilometrica, no. Perché che senso ha a dire che fare... Allora, Tizio va a Roma, Caio va a Torino, Tizio più Caio va a Roma più Torino. Quindi, non c'è nessun senso. Né sommare Tizio con Caio, né sommare Roma con Torino. Chiaro? Quindi, in realtà, si può fare ben poco. Quel ben poco, però, effettivamente, si può fare in maniera esattamente simile a come si percebeva. Ok. Adesso, forse ci serve il concetto di successione strana. Cos'è una successione strana? Allora, con una successione strana questo concetto lo scriviamo in generale e poi lo potete applicare pure nel caso particolare. Allora, la cosa funziona così? Io ho J che viene associato a N di J. N di J, che chiamo N con J, è crescente. Cioè, avremo 1, N1, 2, N2 che è maggiore di N1, 3, abbiamo N3 che è maggiore di N2. Cioè, si crea una successione di indici crescente. Direttamente crescente. Poi, questo ripeto, invece di scrivere N di J, lo indichiamo con N con J. Questo viene associato tramite la successione di prima a X di N con J. Qual è il risultato netto di queste due? Quindi, che cos'è? Non è altro che una composizione di due funzioni. La prima crescente da N e N. E la seconda è la successione di partite. Cosa se ne ricava? Chi è questa successione? Questa successione è XN1, XN2. La vedete un attimo come se fosse un insieme. Ripeto, non è un insieme perché i valori della successione possono essere uguali. XN3, XN4, XN5. La successione di partenza, invece, come era fatta? Era X1, X2, X3, X4, X5. Allora, che cosa significa passare da una successione a una successione estratta? Significa cancellare alcuni di questi elementi. Sopravvivono solo XN1, XN2, XN3, XN4. Facciamo un esempio. Se N1 era 3, N2 era 4, N3 era 6, N4 era 8. Mettiamo 7 e così via. N5 era 10. Allora, X6, X7, X8, X9, X10. Allora, per passare da questa successione a questa successione, io cosa dovevo fare? anderes Dass, qui Tudo. Questo lo teneremo. Questi e questi lì, lo cancellano. Questo lo tenendo. Questo lo cancello, questo lo tendo, questo lo tendo, questo lo cancello, questo lo cancello, questo lo tendo. cioè perciò si chiama estratta perché io ne scarto un po' quanti ne scarto? dipende, ne posso scartare anche solo uno ne posso scartare anche solo nessuno se non scarto niente è la successione di prima se ne scarto per esempio scarto solo il primo elemento mi rimango tutti gli altri per esempio la successione di n1 potrebbe fare 2 l'altro fa 3, l'altro fa 4 scarto solo il primo elemento quanti ne devono rimanere? ne posso scartare anche infiniti per esempio tutti quelli vari posso prendere x con 1 tutti quelli di indice possono rimanere x con 1, x con 3, x con 5 quanti ne devono rimanere? la cosa importante è che ne devono rimanere infiniti perché la prima applicazione questa qua se ci vuole mettere un nome la chiamate fi questa si chiamava x questa non è oppure x composto fi a fi ci metto la cosa che se no mi confondete o insieme a volta anzi la chiamava x capito? la prima applicazione è la crescente quindi la prima applicazione comunque c'è un codominio che è infinito sono tutte le immagini di questa insieme immagini di n è x di n è infinito insieme immagini di questo sarà comunque infinito cioè dopo che avete fatto questa operazione comunque rimanete con una nuova successione quindi voi scartate quello che vi pare però quelli che dovete lasciare sono infiniti scartate i dispari, scartate i pari, scartate i primi treni scartate i primi treni, scartate quello che vi pare ma ne devono rimanere infiniti ok bene adesso possiamo dare la definizione del zero compatto grazie Allora, abbiamo uno spazio medico Allora, sia x di uno spazio medico K contenuto in x si dice compatto se sono se per definizione per ogni successione contenuta in K quando dico contenuto in K significa che i valori della successione vanno a fine di K ripeto, la successione non è un insieme vuol dire che l'immagine della successione è stessa esiste una successione estratta esiste una successione estratta tale che il limite quando j tende a più infinito di x con nj ecco è uguale a x a partenza ovviamente quando vado a fare quando vado a considerare la successione estratta e vado a vedere se converge il limite su che lo devo fare non su n se vi ricordate lo specchietto che ho appena cancellato chi è che tende a infinito nella successione estratta? j j tende a infinito j ci fai nj poi k fai x nj vedete sempre cosa dice la definizione che riguarda gli insieme compatto? che un insieme si dice compatto quando da ogni successione elementi in K si può estrare una sottosuccessione convergente una sottosuccessione convergente sempre una venti di K ora questa nozione a voi può sembrare astrusa però non le avrebbero dato questa importanza se non fosse stata veramente importante perché? adesso noi andremo a vedere chi sono i compatti in generale e nel caso particolare nel caso particolare lo vediamo giovedì no, giovedì è festa lo vediamo settimana prossima nel caso generale lo vediamo già adesso perché nel caso generale potremmo dire soltanto che i compatti sono insieme chiusi e limitati poi dobbiamo dare la definizione di insieme limitati tuttavia in R sarà vero anche viceversa quindi se un insieme è chiuso e limitato sarà compatto quindi innanzitutto in R con la topologia equilidea con la distanza equilidea i compatti saranno facili in qualche modo sono insieme chiusi e già risolviamo di soli anche se possono essere molto complessi però si capisce quali sono e limitati limitato vuol dire contenuti in intervallo quindi sarà per esempio gli intervalli chiusi saranno compatti ok? questo sarà il risultato principale in R gli intervalli chiusi saranno compatti e perché sarà importante? quando andremo a fare un teorema tra poco tra una settimana un teorema di Weierstrass e andremo a diciamo tra un paio di e un paio di andremo per esempio a massimizzare e minimizzare una funzione continua sul compatto non sapremo più massimo quindi ci sta sempre quindi sono concetti che sono stati evidenziati individuali perché sono utili d'altro canto questa non è una cosa particolare della matematica l'umanità sempre ai concetti che sono importanti assegna molti nomi diversi tende a evidenziarli esistono due esempi famosi esiste un terzo in realtà che non si può fare qua allora due esempi famosi sono sicuramente il denaro e sicuramente la parola schiaffo quanti sinonimi ha? io ne conosco la mia madre D schiaffo ceffone ma rovescio sventi sventaglia sventaglia che ne so nuchino prontino cinque dita sganassone e perché lo schiaffo? il denaro si può capire denaro liquidi diciamo spiccioli cartamoneta quante ne volete insomma ce ne stanno almeno 30 anche qui molti sinonimi ma il denaro si può capire che sia così importante perché lo schiaffo? perchè lo schiaffo? perchè lo schiaffo? ma diciamo che tu puoi avere tutti i soldi che vuoi però se si acchiaffi qualcuno e ti da due pizze ecco l'altro sinonimo insomma ha pure la sua importanza non prenderle c'era qualcuno primo non prenderle comunque allora quello che vogliamo vedere in generale adesso vediamo solo questo e per oggi ci fermiamo proposizione stiamo in uno spazio medico poi prendiamo K compatto K come 1x compatto allora Km ogni insieme compatto è sempre chiuso la dimostrazione la facciamo entrare quindi allora supponiamo per assurdo che non sia chiuso se per assurdo K non fosse chiuso esisterebbe un Y non appartenente a K tale che la sfera di centro Y perché esisterebbe un Y appartenente alla chiusura di K meno K chiaro? cioè se non è chiuso la chiusura deve essere più grande di K quindi c'è stato un punto nella chiusura di K che non è di K ma questo che significa? un Y che non appartiene a K tale che la sfera di centro Y raggio Y intersecato K è diversa da 0 per ogni Y maggiore di K è diversa ad esempio V stare nella chiusura di K significava essere un punto di aderenza questo è un punto di aderenza che è lo stesso prendiamo Y del tipo 1 su N e prendiamo un punto X con N appartenente alla sfera di centro Y e di raggio 1 su N intersecato da quindi questo che vuol dire? vuol dire che la distanza di X con N da Y è minore di 1 su N ed è maggiore di 0 e vuol dire che X con N sta in casa per ogni N però niente questa vuol dire questa e intersecato K vuol dire che sta in casa allora questo che vuol dire? vuol dire che il limite X con N chi fa? fa Y che vi ricordo non è appartenente a K allora ecco una cosa che abbiamo dimenticato di fare ma lo faremo stavolta lo faremo come esercizio domani pomeriggio è che quando passiamo una successione estratta se la successione di partenza aveva limite la successione estratta converge lo stesso limite cioè cosa può succedere? quando io passo una successione estratta può succedere che una successione che non convergeva prima converge dopo per esempio pensate alla successione meno 1 alla N quella convergeva? no! però se prendo solo gli N pari viene sempre 1 e converge 1 se prendo solo gli N dispari viene N viene meno 1 alla elevata numero dispari viene sempre meno 1 e converge al meno 1 però se la successione di partenza convergeva che succede quando vado a fare la successione estratta converge lo stesso limite questo è assurdo perché è assurdo? perché noi abbiamo supposto che l'insieme fosse compatto allora ci dovrebbe essere una successione estratta che converge a un elemento di k ma siccome y di k non ci sta il limite da una parte dovrebbe appartenere a k dall'altra parte non sta in k e questo è assurdo quindi sicuramente una conseguenza del fatto di essere un insieme compatto è che un insieme compatto deve essere per forza chiuso ok? va bene per l'altro basta ma non 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 Grazie a tutti.